Bentornati ai video tutorial di BitonLive. Con questo video vi mostrerò come gestire e come creare la schedulazione della vostra scaletta attraverso Filo Media Manager. Andiamo dal menu Schedule a selezionare Scheduler. Nella finestra che ci si apre abbiamo il calendario attraverso il quale possiamo andare a navigare indietro o in avanti a seconda se vogliamo controllare le vecchie scalette della nostra programmazione o se vogliamo andare a costruirne delle nuove. Nella parte centrale della finestra abbiamo la sezione dedicata alla scaletta vera e propria. Qui verranno elencati tutti gli elementi della scaletta che saranno stati selezionati da Filo Media Manager per la creazione della scaletta giornaliera. Sulla destra abbiamo la libreria che possiamo utilizzare per andare a sostituire o ad aggiungere degli elementi all'interno della nostra scaletta. Mentre sulla sinistra abbiamo la sezione che si chiama Unscheduled dove verranno indicati tutti gli elementi che il nostro programma Filo Media Manager non è riuscito ad inserire all'interno della schedulazione a causa delle regole che abbiamo impostato che magari sono troppo strette, troppo restrittive per alcuni elementi, alcune posizioni della nostra scaletta. Nella parte sottostante abbiamo invece lo storico degli elementi della nostra scaletta. Quindi se andassimo a selezionare uno degli elementi vedremo qui tutti i giorni e gli orari in cui quell'elemento è stato preso per la generazione delle altre scalette della nostra programmazione. Infine nella sezione in basso a destra, quella che si chiama Log, avremo le indicazioni, quindi tutto il report dei diversi errori di schedulazione, quindi di tutti gli elementi Unscheduled del nostro Filo Media Manager. Andiamo a creare la schedulazione per la giornata, quindi andiamo a selezionare una data in cui non c'è ancora schedulazione o la data che ci interessa e andiamo a cliccare su Add. Come vedete il programma mi propone i diversi template che ho creato all'interno della sezione template di Filo Media Manager. Se vado a selezionarne uno, il programma mi propone la schedulazione o di tutto il giorno oppure di orari specifici con l'indicazione del clock relativo all'orario che voglio andare a schedulare. Andiamo a selezionare All Day per programmare tutta la giornata. In questo modo il programma inizierà a calcolare tutta la scaletta della mia giornata. Una volta terminata la compilazione della scaletta, Filo Media Manager mi presenta tutto l'elenco delle canzoni per la giornata che sono andato a compilare. Quindi nella sezione centrale avrò l'indicazione dei vari elementi che il programma è andato a selezionare con l'indicazione dell'orario, il tipo di elemento, quindi se è una canzone, una clip o un commerciale e tutte le informazioni delle varie canzoni o dei vari elementi che sono andati ad inserire. Quindi ci sarà il titolo, la durata, i vari marker della mia canzone, l'artista, l'album e tutte le informazioni relative a ogni singolo elemento. Oltre a queste ho anche la possibilità di aggiungere o togliere altre informazioni che sono quelle che saranno rese disponibili a Fluo Radio Playout, quindi l'aggiustabilità, la sospendibilità o il concatenamento delle varie canzoni. Infatti cliccando sulle tre diverse icone posso attivare o disattivare le varie indicazioni, quindi di aggiustabilità, di sospendibilità oppure di concatenamento di una canzone con quella successiva. Nella sezione di sinistra, quella relativa agli unschedule, do anche le informazioni relative a tutte quelle posizioni che non sono state schedulate dal mio programma, da Filo Media Manager, perché magari avevano delle regole troppo rigide rispetto a quello che è il mio archivio e quindi Filo Media Manager non ha trovato gli elementi da inserire all'interno della mia scaletta. Se dovessero essercene troppi, come in questo caso, vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello di regole. Ci sono delle regole troppo strette rispetto al mio archivio e quindi dovrò andare a modificare la definizione delle diverse regole. Per andare a eliminare questi elementi unscheduled, quindi sostituirli con delle canzoni del mio archivio, basta andare a cliccare sull'elemento unscheduled e Filo Media Manager mi riporta all'interno della scaletta nella sezione dove c'è stato questo problema di schedulazione. Una volta quindi selezionato, ho anche la possibilità di vedere di ogni singolo elemento unscheduled qual è stato il motivo per cui non è stato schedulato. Nella parte del log, in basso a destra, ho anche le informazioni riguardo a quale regola non è stata rispettata. Quindi posso andare a visionare tutti gli elementi che il programma è andato a controllare per inserirlo all'interno di questo punto della scaletta e mi indica anche qual è la regola che non è stata rispettata e quali sono i valori invece rispetto alla regola che era stata impostata che quel singolo elemento ha all'interno della nostra selezione. Quindi posso andare a verificare qual è l'elemento che più si avvicina alle mie intenzioni riguardo alla compilazione del log e posso andare a ricercarlo all'interno della libreria per andare a sostituire l'elemento unscheduled. Per sostituirlo mi basta fare un doppio clic sull'elemento unscheduled che voglio sostituire e posso andare a selezionare l'elemento che più si addice a quella posizione della mia scaletta. Quindi posso andare a selezionare e a navigare, a fare la ricerca come faccio le ricerche all'interno del mio elenco di canzoni quindi all'interno della sezione database e posso andare a selezionare la canzone che più mi interessa inserire all'interno di quella posizione. Una volta fatto doppio clic sulla canzone che più mi interessa all'interno della libreria mi verrà sostituita la posizione unscheduled all'interno della mia scaletta. In questo modo poi posso andare a sostituire tutti gli elementi unscheduled che trovo all'interno della mia scaletta. Oltre alla questione degli elementi unscheduled poi posso andare ad aggiungere degli elementi all'interno della mia scaletta in maniera manuale quindi sempre attraverso la libreria posso aggiungere delle macro gli elementi della mia libreria oppure delle playlist manuali che ho precedentemente creato attraverso Filo Media Manager quindi posso andare a inserire tutti gli elementi che voglio attraverso un doppio clic selezionandoli e portandoli all'interno della mia scaletta. Posso andare anche ad eliminare degli elementi che magari non mi interessano all'interno della scaletta e quindi prendere e selezionare un elemento e con il cance della tastiera andarlo a rimuovere dare poi la conferma di rimozione attraverso la finestra che mi appare e posso anche spostarli all'interno della mia scaletta semplicemente selezionando e trascinando l'elemento nella posizione che più mi interessa. Una volta che ho finito con la sostituzione di tutti gli elementi unscheduled all'interno della mia scaletta e una volta che ho risistemato anche le canzoni quindi le ho spostate o sono andato a controllare l'interità della mia scaletta ho un altro elemento che mi indica la correttezza o meno della scaletta su cui sto lavorando. Infatti attraverso il colore del giorno all'interno del calendario Filo Media Manager mi indica se la scaletta generata copre l'interità delle 24 ore oppure no. Se il giorno su cui sto lavorando è di color giallo come in questo caso vuol dire che ci sono dei buchi che non mi permettono la copertura delle 24 ore della mia giornata invece in caso in cui il giorno sia colorato e evidenziato di verde allora vuol dire che ho abbastanza elementi all'interno della mia scaletta per coprire tutte quante le 24 ore. Una volta sistemato tutto, quindi una volta coperte le 24 ore della mia giornata una volta sistemati tutti gli elementi unscheduled una volta che ho finito di visualizzare e dare le indicazioni all'interno di tutta la mia scaletta posso esportare la playlist in modo tale che il mio programma di riproduzione Flora di Playout possa prendere questa scaletta e riprodurla così come l'abbiamo definita a questo livello. Clicchiamo su Export e il programma esporterà la nuova scaletta per renderla disponibile al nostro Playout Per quanto riguarda la schedulazione è tutto io vi invito ai prossimi tutorial di Biton Live e vi auguro un buon lavoro e vi auguro un buon lavoro